Al vaglio del Consiglio regionale la nuova legge urbanistica che sostituisce quella di oggi che ha 40 anni, 70 pagine, 103 articoli, un tema centrale perché definisce le strategie urbanistiche per i prossimi anni, ma si incrocia anche col voto del 10 marzo, una riforma ritenuta prioritaria perché tra i punti cardine di fine mandato del presidente uscente e ricandidato per il centrodestra Marco Marzillo, per la maggioranza è un cambio di passo epocale. È una legge assolutamente innovativa che proietta la regione Abruzzo verso il futuro, è una legge che sa interpretare il cambiamento in atto, un mondo che sta cambiando rispetto al 1983, 83 si ragionava sui principi dell'economia lineare e quindi si ragionava sull'espansione delle città, c'è una urbanistica espansiva, oggi invece questa legge parla di tutt'altro, parla di economia circolare, di riuso, di rigenerazione della nostra città, ponendo al centro della pianificazione un'urbanistica non più quantitativa ma un'urbanistica qualitativa che punta proprio a rimettere al centro l'uomo e quindi il benessere e la qualità di vita dei nostri cittadini. Altro tema caldo oggi grazie a una conferenza dell'opposizione è quello della rete ospedaliera, la Giunta cerca di comprimere i tempi ma il Consiglio è stato escluso per mesi come le commissioni dall'esame del documento. Una conferenza convocata dopo quello che è accaduto ieri in commissione sanità, quando è stato negato il confronto alle opposizioni e provando in fretta e furia la disposizione. Cinque anni di nulla e la prima Giunta, il primo governo regionale non aver approvato alcuno strumento di programmazione ed oggi dopo cinque anni accorciano i tempi perché vogliono fare campagna elettorale e provare ad apportare in giro per la campagna elettorale un programma che non ha né visione e che non regola in modo opportuno quella che è l'offerta sanitaria per la nostra regione e per i nostri cittadini. Ieri c'era un passaggio importante che chiedeva un confronto con il governo, c'è stato negato, c'è stato negato su tutta la linea, il soldato da Dazio prende ordini da quello che è l'imperatore Marsiglio dando e comportandosi in maniera squalificante, mancando di rispetto a quella che è la discussione all'interno della commissione, a quella che è la democrazia.